Easy go Tutto bene? Aspetti qui, vado a vedere Sta fermo, deco Ehi, cosa sta succedendo? Stia indietro, non si avvicini Non provare ad avvicinarti Stato! Ehi, ma che diabolo! Ehi, ma che diabolo! Non è un incubo Attenzione a tutti i cittadini A causa dell'epidemia in corso Vi invitiamo a rifugiarvi presso la centrale di polizia di Raku City Non posso stare Devo andare Sembra la pocherisse La centrale di polizia Ci sono quasi C'è nessuno! No! 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 Non è un'epidemia Non è un'epidemia Non è un'epidemia Non è il momento Grazie. 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 Lasciami! Lasciami! Aiuto! Aiuto! Ma quindi la causa è sconosciuta? Grazie. 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 3 minuti. 3 minuti. 4 minuti. 5 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 minuti. 6 minuti. 5 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 minuti. 6 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 minuti. Sì, 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 sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. 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 Ha funzionato. Ha funzionato. Grazie. 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 E dov'è? È qui vicino. Grazie. 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 Ma... dove sono? Grazie. Grazie. Forse posso uscire da lì. Cavolo! Mi serve la chiave! Oh no! È lui! È lui! Te ne pentirai, mocciosa del cazzo! Va via! Aiuto! Qualcuno mi aiuti! Piccola idiota, non c'è via di fuga! Nascondimi! 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 Fine dei giochi! Da qui non si esce! Dove diavolo sei? Dove diavolo sei? Vieni fuori! So che sei qui dentro! Più tempo mi fai perdere, peggio sarà per te! Sì! Oddio! 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 Dannazione Prego Basta Fattene Questa è la tua ultima possibilità Esci fuori Ora Cazzo Brucia Cazzo è la chiama Ti ho trovata Presto 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 Cosa? Non si apre Bel tentativo Sherry Sto arrivando Sherry Vieni qui Mocciosetta Eccoti qui Claire Abbiamo un affare in sospeso Di cosa parli? Piantala di farmi perdere tempo Sto arrivando bastardo Sto arrivando Sì. Ancora tu! Sì. Sembra sia l'unica strada. Sì. 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 Deve essere l'orfanotrofio. Tieni duro, Sherry. Mi senti? Ho con me il ciondolo! Ho con me il ciondolo. Sherry! Sherry, dove sei? Claire! Sherry! Arrivo subito! Via, via, via! Claire, è dietro di te! Non fermarti! Sbrigati! Corri, corri! Sherry, fa... Claire, stai bene? Puoi sentirmi? Claire! Claire, devi svegliarti! Lui sta arrivando! Dov'è andata Sherry? Sherry è sua figlia! Sherry! Dove sei? Ora sono nella merda fino al collo, letteralmente Ora sono nella merda fino al collo, letteralmente Aspettami, Sherry, sto arrivando Aspettami, Sherry, sto arrivando Aspettami, Sherry, sto arrivando Aspettami, Sherry, sto arrivando Aspettami, Sherry Aspettami Aspettami, Sherry 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 Sì, sì. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Arrivo, Sherry. Tieni duro. Sì. 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 Merda! Sì. 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 Annette ha detto che il laboratorio è vicino Aspetta, quella funicolare Sono qui, Sherry Andrà tutto bene Sherry, su, andiamo, tieni duro Ci siamo quasi Ah, finalmente, la funicolare Ok, spero di non aver dimenticato niente Da qui non si torna Questa vettura è diretta al Nest Non uscire fino a destinazione raggiunta Cerco la medicina Sherry, va tutto bene Per sicurezza, attendere che le porte siano completamente aperte Per sicurezza, attendere che le porte siano completamente aperte Per sicurezza, attendere che le porte siano completamente aperte Andate al Nest Godetevi la visita Per sicurezza, attendere che le porte siano solo Grazie a tutti. 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 Oh no. 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 Grazie a tutti. Oh no. 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 Oh no.